Bentornati alle slide della vostra professoressa di lettere. Ripassando insieme tutta la storia della letteratura italiana, siamo giunti con i video precedenti al 1700 ed in particolare nello scorso video abbiamo parlato dell'Arcadia e di quelli che sono i suoi principali, sono stati i suoi principali esponenti, i poeti dell'Arcadia appunto. Oggi ci dedichiamo invece a altri autori e altri generi letterari, in particolare affrontiamo la storiografia e poi vediamo alcuni principali esponenti dell'illuminismo lombardo e di quello del regno di Napoli. Cominciamo quindi con la storiografia. Perché proprio la storiografia? Perché effettivamente storiografia e critica storiografica ebbero un grande impulso nel XVIII secolo in nome di una più rigorosa e lucida analisi dei fatti che è perfettamente in linea con quelli che erano gli indirizzi dell'illuminismo, come abbiamo visto in uno dei video precedenti. In particolar modo a Napoli, tra i centri culturali di maggior rilievo all'epoca, si distinsero Pietro Giannone e Gian Battista Vico. Ma complessivamente l'Italia ospitò numerose personalità di spicco, si pensi a Ludovico Antonio Muratori, a Girolamo Tiraboschi, Giovanni Mario Crescimbeni, alcuni nomi li abbiamo già citati, altri li andremo citando nel corso di questo video, sono tutti i principali esponenti della letteratura italiana del Settecento. Sicuramente comunque la ricerca erudita nella raccolta delle fonti e delle testimonianze, nella cronologia degli avvenimenti, l'interesse verso tutte le attività umane e tutti gli aspetti della cultura contribuirono a creare un prezioso materiale di consultazione, mettendo le basi per un'analisi storiografica più scientifica e razionale. E' questo che è il maggiore risultato portato dall'illuminismo in Italia. E partiamo quindi da Ludovico Antonio Muratori. Sacerdote fu prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano e archivista degli Estensi a Modena, per cui tra i suoi numerosi iscritti merita di essere menzionata proprio l'opera di grande erudizione intitolata Antichità Estensi nel 1717, nella quale prendendo spunto da una contesa scoppiata nel 1708 fra gli Estensi e il papato per il possesso delle ville di Comacchio, Muratori raccolse una poderosa mole di documenti e materiali che andava ben oltre il caso specifico e che lo spinse a prendere precise posizioni in difesa dello Stato. Invece la Rerum Italicarum Scriptores del 1723-28 si presenta come una raccolta in 28 volumi di testi e materiali prodotti in un arco temporale che va dal 500 al 1500 e quindi una raccolta diciamo di tutta la letteratura italiana fino appunto al 500. Questa raccolta insieme con Antiquitates Italiche del 1744-49 in 12 volumi, no del 1000, scusate, Antiquitates Italiche Medievi del 1738-42 opera in sei tomi in cui sono catalogati documenti medievali, offre un primo importante fondamentale quadro d'insieme sul Medioevo. Invece prima stavo citando gli Annali d'Italia del 1744-49 in 12 volumi che tentano di ricostruire la storia d'Italia dall'era volgare fino agli anni contemporanei all'autore. Comunque nei suoi scritti i muratori non solo raccolse e catalogò una notevole quantità di materiali ma condannò anche l'invadenza del papato nella politica, evidenziò inoltre le ingiustizie e le diseguaglianze sociali, i soprusi della nobiltà e le condizioni dei carcerati, insieme con la necessità di privilegiare il bene pubblico rispetto a quello individuale o delle classi agiate, insomma un perfetto illuminista. Quanto a Pietro Giannone, giuridizionalista di grande fama, egli rivendicò anche egli l'autonomia dello Stato nell'istoria civile del Regno di Napoli del 1723, denunciando l'eccessivo potere delle istituzioni ecclesiastiche che gravava sulla situazione politica ed economica del Mezzogiorno. L'opera provocò una dura reazione, Giannone venne addirittura scomunicato e mandato in esilio a Vienna e qui scrisse il Triregno, pubblicato possumo solo nel 1895, in cui sferrava un nuovo attacco contro la Chiesa. Imprigionato, finì allora i propri giorni nel carcere di Torino, dove compose Vita scritta dall'umedesimo del 1736-41, nella quale raccontò le persecuzioni che aveva subito, e poi morì nel 1748. Esaltata da Voltaire e da Montesquieu, l'istoria civile ebbe una grande notorietà a livello europeo, perché interpretava fedelmente le esigenze della borghesia meridionale colta e di gran parte degli intellettuali del periodo che premevano per l'abolizione dei privilegi ecclesiastici e per la confisca dei beni della Chiesa. Gian Battista Vico, invece, fu pensatore complesso e originale. Riaffermò l'idea di un disegno provvidenzialistico e divino della storia umana, la quale, imperscrutabile, si ripete anche nella vita di ogni singolo individuo, secondo regole e leggi permanenti. Infatti, Vico distinse tre fasi nello sviluppo della mente dell'uomo, che riteneva fossero corrispondenti alle tre età della vita, e quindi l'infanzia dominata dall'istinto, l'adolescenza dalla fantasia, la maturità dalla ragione. Parallelamente, anche la storia dell'umanità, secondo Vico, ha conosciuto un'evoluzione in tre fasi, l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini. La storia, insomma, secondo Vico, ha un andamento ciclico infinito, e celebra infatti la sua teoria dei corsi e ricorsi storici, per cui la civiltà, una volta raggiunto il livello massimo del proprio sviluppo, ritorna alla barbarie iniziale. La fantasia è la prima forma di conoscenza, che precede il ragionamento logico e si manifesta attraverso la poesia, che è espressione spontanea dei popoli primitivi. Queste riflessioni di carattere generale si accompagnavano però anche ad una solida attività di filologo. Vico, in particolare, ipotizzò che i poemi classici attribuiti ad Omero non fossero l'opera di un singolo autore, quanto piuttosto il canto corale del popolo greco all'alba della propria civiltà, il simbolo dell'attività fantastica collettiva. Certamente il suo pensiero anticipò lo storicismo moderno. La sua opera maggiore, Principi di una scienza nuova di intorno alla natura delle nazioni del 1725, rilaborata poi in una nuova edizione del 1730 con l'aggiunta delle degnità e poi pubblicata in edizione definitiva nel 1744, è articolata in cinque libri. Nel primo egli esprime la sua teoria sulla cronologia della storia dell'uomo. Nel secondo si propone di decifrare il sapere originario dell'umanità. Nel terzo discute il carattere primitivo della poesia omerica. Nel quarto parla dei tre stadi attraverso cui si evolve l'umanità e nel quinto ipotizza la teoria dei corsi e ricorsi. Questo per quanto riguarda la storiografia. Certamente con la storiografia molti autori espressero quelle che erano le loro idee illuministiche, ma c'è da dire che sicuramente l'Italia visse il movimento illuministico soprattutto dal punto di vista delle riforme politiche ed economiche. I centri di diffusione dell'illuminismo in Italia furono molti, ma Milano e Napoli si rivelarono i luoghi più attivi, dove gli intellettuali assunsero cariche pubbliche e collaborarono rispettivamente con le amministrazioni asburgiche e borboniche. In particolare l'illuminismo lombardo ebbe un carattere più politico ed economico. A divulgare la nuova cultura fu la rivista Il Caffè, fondata dai fratelli Pietro e Alessandro Verri sul modello della rivista inglese The Spectator di Joseph Edison. I Verri diedero vita anche all'Accademia dei Pugni del 1761, in polemica con l'Accademia dei Trasformati che era di stampo più tradizionalistico. Comunque gli illuministi del caffè furono aperti alle istanze della cultura europea, subendo il fascino e l'influsso della filosofia sensistica e dell'empirismo di Bacone e di Locke. Tra gli intellettuali che si distinsero in questo periodo ricordiamo Cesare Beccaria, nonno di Alessandro Manzoni, nato da nobile famiglia e amico dei fratelli Verri. Collaboratore del Caffè, compose il celebre trattato dei delitti e delle pene del 1764, nel quale condannò la pena di morte e la tortura, sostenendo la necessità di prevenire il crimine con opportune riforme sociali. Il volume ebbe risonanza mondiale, incontrando in particolare l'apprezzamento entusiastico dei filosofi dell'enciclopedia, e quindi di Voltaire, e venne tradotto dall'abate Andrea Morellè con le note di Denis Diderot. Le altre principali opere dell'autore sono Ricerche intorno alla natura dello stile, nel 1770, ed Elementi di economia pubblica, del 1804, quindi postumo. Invece, nella Napoli borbonica di Carlo III e Ferdinando IV, si misero in luce in particolare Antonio Genovesi, Gaetano Filangeri e Ferdinando Galiani. Antonio Genovesi, nato nei pressi di Salerno, fu ordinato sacerdote nel 1737. Si dedicò all'insegnamento nell'Università di Napoli, dove occupò nel 1741 la cattedra di metafisica. Appassionatosi in seguito agli studi economici, tenne dal 1754 la prima cattedra di economia politica istituita in Europa, divenendo un imprescindibile punto di riferimento per un'intera generazione di riformatori napoletani. Così collaborò alle riforme introdotte nel Regno di Napoli da Bernardo Tanucci, sostenendo la funzione sociale delle lettere e l'importanza dell'istruzione per una vera crescita della società. Nelle lezioni di commercio, 1765-67, sostenne la tesi secondo la quale lo Stato risultava essere fondamentale nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, in prevalenza costituita da contadini, e nella formazione del ceto medio imprenditoriale. Allievo di Genovesi fu Ferdinando Galiani, autore del Trattato della Moneta, del 1751. Visse come ambasciatore a Parigi tra il 1759 e il 69, entrando in contatto con gli ambienti illuministici e divenendo anche amico di Diderot. Alcuni dei suoi scritti sono Descrizione della spaventosa eruzione del Vesuvio, del 1779, Del delitto napoletano, del 1779 pure, e Vocabolario del dialetto napoletano, del 1789. Un posto a parte occupa il riccoivistolario, pubblicato in Barriere Accolte Postume. Gaetano Filangeri, giurista e filosofo, riprese da Antonio Genovesi la tematica dell'importanza dell'istruzione nella scuola pubblica, e quindi ci riguarda particolarmente. Lo Stato, secondo lui, avrebbe dovuto avere nel proprio interesse la responsabilità di provvedere all'educazione dei cittadini, con un programma unitario e coerente. La Scienza della legislazione, 1780-85, fu considerata un'opera di alto valore europeo in materia di filosofia del diritto e di teoria della giurisprudenza, sia per la concezione laica dello Stato, sia per le idee di uguaglianza e libertà in essa contenute. Restate collegati perché nel prossimo video parleremo invece del teatro nel Settecento.